In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace di Dio sia con tutti voi. Ecco, vogliamo celebrare questa Eucharistia con molta gioia, con molta allegria, anche perché il dono dell'acqua che è venuta, no, si sta da Dio, no, anche in pianura forse si sta meglio. Ecco, vogliamo ringraziare Dio per la bontà dell'acqua, per la bontà del fresco, per la bontà di poter celebrare l'Eucharistia e anche per la bontà e la radicalità della parola che ascolteremo. E vorrei che ci mettiamo di fronte al Signore proprio con chiarezza, vuoi stare con me o no, se stai con me hai la vita, se non stai con me continua a soffrire e con mi soffri anche peggio, perché si scatenano gli egoismi. E così il Signore ci fa questa domanda oggi, con chi vogliamo stare, proprio per illuminarci, perché ci ama, perché vuole che non perdiamo tempo, vuole che non vivacchiamo, che stiamo sempre a brontolare e a dannarci e a far fare a Dio quello che vogliamo noi e basta. Invece vuole che ci mettiamo nella sua volontà per fare la sua volontà, decisamente, perché allora la nostra vita va veramente meglio, perché tutte le nostre indecisioni, pauri, angustie che abbiamo non fanno altro che tirare indietro l'azione di Dio, impedire l'azione di Dio a realizzarsi. Ecco, Lui vuole darci la sapienza, la saggezza, vuole darci anche quella comunione profonda della sottomissione, che non di diventare serviti degli altri, ma sottomissione che è comunione, intima comunione tra di noi, l'amore, uno accetta l'altro com'è, uno ama l'altro com'è. Ecco, vogliamo vivere il primo momento dell'Eucaristia, allora, quello di chiedere il perdono dei nostri peccati. Guai a noi se non vediamo peccati, che vuol dire che siamo ciechi, abbiamo un peccato gravissimo, non vediamo. E non vedere i peccati vuol dire non capire niente della misericordia di Dio e non riceverla neanche. Invece diciamo, Signore, veramente, abibità di me, perdona. Dal libro di Giosuè. In quei giorni Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Siche e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo, se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, seglietevi oggi chi servire, se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il fiume, oppure gli dèi degli Ammorrei, nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore? Il popolo rispose, lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi, poiché è il Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli, fra i quali siamo passati. Perciò anche noi serviremo il Signore, perché Egli è il nostro Dio, parola di Dio. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Gli occhi del Signore sui giusti, i Suoi orecchi al loro grido di aiuto. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato e gli salva gli spiriti affranti. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. Custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Il male fa morire il malvagio e chi odia il giusto sarà condannato. Il Signore riscatta la vita dei Suoi servi. Non sarà condannato chi in Lui si rifugia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini Fratelli, nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri. Le mogli lo siano i loro mariti come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, Lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché dissimile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno, infatti, ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande, io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Parola di Dio. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Glorie a Deo, Signore. In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero «Questa parola è dura. Chi può ascoltarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i Suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro «Questo vi scandalizza. Se vedesse il Figlio dell'uomo salire là dove era prima, è lo Spirito che dà la vita. La carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho dette sono spirito e vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù, infatti, sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva «Per loro vi ho detto che nessuno può venire a me se non li è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei Suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui». Disse allora Gesù ai dodici «Volete andarvene anche voi?» le rispose Simon Pietro «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Parola di Dio. Anche stasera la parola è piena di sapienza per noi ed è molto radicale ed è molto importante anche che apriamo il cuore, accoglierla, accettarla, discuterla. Se vogliamo crescere con Dio, con Gesù Cristo, quel Vangelo occorre anche accettarlo, nella sua crudenza ma anche nella sua profonda verità. Perché è per darci la vita, non per scavizzarci. È per liberarci da un peso enorme che è il peccato, non per toglierci la facilizzazione a vivere. Ecco, una parola questa che ci aiuta è anche a scegliere. La prima lettura, vedete come il popolo di Israele è invitato da Giosuè. Scegliete. Volete scegliere l'idea o voi volete scegliere Dio come vostro padre? È così a Giosuè che il popolo dichiarano proprio «Noi scegliamo Dio». Quanto a me e la mia casa, scegliamo il Signore. E ricordati i tanti benefici che aveva fatto Abramo, Mosè, in tantissime occasioni, ecco che Gesù è ringraziato Dio, lo dà Dio e lo vuole servire. E anche il popolo dice «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi». Perché è vero, loro erano i servizi duri e tante volte erano infideli a Dio. Ecco questa scelta, no? Anselto Dio, che è la scelta che Dio chiama ciascuno di noi. Perché anche noi, il popolo cristiano, siamo doppiamente invitati a scegliere Dio. Proprio perché Lui ci ha scelti donandoci il battesimo, dandoci il mistero pasquale e realizzato di Gesù Cristo, donandoci il perdono dei nostri peccati, donandoci il suo spirito, il suo amore e ci rende capaci anche noi di amare, pieni di spirito. Tutti questi doni Dio ce li dà gratis. Chi scegli tu allora? Il mondo? Quello che insegna il mondo? La frivolenza del mondo? Le furberie del mondo? Chi scegli? Tante volte è più comodo seguire il mondo perché favorisce il nostro egoismo e nel regno dei furbi, quelli che sanno fare i mestieri. Guardate come succede anche in Italia, come viene un po' smascherata questa Italia così schiavizzata da tanti. Ma finché stiamo lì a brontolare, guardare e forse anche fare altrettanto, non combiniamo niente. Saremo sempre trissi, delusi, insoddisfatti perché l'egoismo non si sa. Invece il Signore ci viene a insegnare proprio la strada dritta di Gesù Cristo e vivere gli insegnamenti di Dio, quelli che sono scritti nella parola di Dio, non gli altri. Anche i pagani, sono tanti i pagani buoni, quelli che seguono la natura, la loro naturalità. Sono tantissimi anche se non sono battezzati, perché ognuno di noi è fatto bene da Dio, questo concetto che ripetiamo sempre. Tutti siamo fatti bene da Dio, ma non tutti rispondiamo a Dio, non segliamo Dio. Facciamo quello che ci piace, quello che ci torna conto, quello che capisco io buono, quello che va a me, insomma. Casa mia, comando io e faccio quello che voglio. Permettendo il marito, permettendo la moglie e se no sono divisioni. Ecco allora la scelta di Dio è una scelta di vita, una scelta di forza, di coraggio. Se noi guardiamo la seconda lettura è stupenda. Qui vengono spiegati in maniera banale tante cose. quando qui viene insegnato il vero amore, il vero amore tra le persone, il vero amore che c'è tra marito e moglie, il vero amore che c'è proprio perché siamo membra di un solo corpo. L'uomo lascerà suo padre, sua madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. parla tutto di sottomissione, non siate sottomessi. Allora giù contro le donne siate sottomessi ai mariti. E dopo anche voi i mariti siate sottomessi alle donne. E cosa ha capito? Niente. Anche quello che predica ha capito meno ancora. Sottomissione non è fare gli schiaviti o l'uno dell'altro. Non è sopportare, non è subire. Non è questa la sottomissione che intende Paolo agli effesivi. Sottomissione è comunione. Comunione tra due persone, tra tre persone, tra cinque persone, tra persone della comunità e poi tutti gli altri. Comunione profonda. Dio ha mandato Gesù Cristo e Gesù Cristo è sottomesso a Dio. Perché in profonda comunione con Dio. Gesù che compie il disegno di Dio. Per testimoniare la salvezza, riparare il peccato, vincere il demonio, Dio Padre gli dice a Gesù, devi morire in croce. E Gesù, in comunione profonda con Dio, accetta la volontà di Dio Padre e si fa uomo, si prepara, vive la passione, muore in croce e risorge. E Dio Padre ha dimostrato in Gesù Cristo la vera strada della vita. È amare, sempre. Ma quello continua a disturbarmi. Amere. Prego al Signore che ti aiuti a avere degli atteggiamenti pieni di amore. Perché prima o dopo l'amore fa crollare anche l'altro. La fa crollare nel convertirlo. Sottomissione allora è gioia di stare insieme. Gioia di stare insieme. Anche l'amore umano deve raccogliere questo insegnamento della sottomissione. L'amore divino è piena sottomissione. Piena comunione tra Gesù e il Padre, tra lo Spirito Santo e Gesù e il Padre. Piena comunione. Piena comunione non è dire si sopportano, no. Vuol dire che si amano l'uno e l'altro come è, come è, senza nessuna distinzione. E questo nasce il vero amore. La vera gioia dello stare insieme. Amare. Cosa vuol dire? Dare la vita per l'altro. Ti fermi, ti sottometti all'amore dell'altro e doni all'altro. Amore. Non esiste l'amore cristiano che aspetti dagli altri, che ti facciano qualcosa, che ti dicano grazie, che ti facciano un sorriso, che anche ti diano un abbraccio, che è buonissimo. Ma non è quello l'amore cristiano. L'amore cristiano è quello che tu dai a te stesso, che tu dai agli altri. Non è aspettare, non è ricevere. È infantile quello. E noi siamo là tante volte, forse a piacere un po' di affetto, un po' di amore, che mi capiscano. Benissimo, ma quello è infantile. Non rimanere in quell'atteggiamento. Invece, piano piano cresci e diventare cristiano. Che sei capace di amarti come sei, perdonandoti, e amare gli altri come sono. Questa è la vera sottomissione. Sottomissione vuol dire portare la croce insieme, non uno sopra l'altro. Non tu porti la mia. No, insieme portiamo la croce vicenevolmente. Che allora nasce l'amore, la vita. Allora la sottomissione, ripeto, è comunione. Se guardate anche il corpo, no? Quello della coppia. Quando è che si amano veramente? Quando sono uniti con dolcezza, con amore, con tenerezza. Questi due corpi là, agrovigliati, sottomessi una all'altra. Non c'è l'altro sopra, l'altro sotto, l'altro bravo, l'altro don bravo. L'unione di due cose insieme. E quello è amore. Se poi aggiungiamo l'amore divino, allora entra lo spirito, entra la gratia, entra la misericordia, entra il perdono. Allora è ancora più facile vivere la sottomissione, perché Dio crea comunione. Dio crea veramente armonia tra le persone. E non si può fare armonia tra le persone se non divento io armonioso con me stesso. Accolgo me stesso come sono, mi amo. Non egoisticamente, ma per quello che sono. La sottomissione è stupenda. E questo avviene da soli, non ce la facciamo. Abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno di Dio. E questa sottomissione la comprendiamo che la coppia, ma anche chi è da solo, qualunque sia la sua realtà, quando diventa una carne sola con l'altra. Una carne sola con l'altra. La coppia è un'idea bellissima, no? marito e moglie che formano un corpo solo. E qui viene a chiarire tutte le posizioni della vera famiglia fatta da Dio. Ecco che allora l'uomo lascerà sua madre, suo padre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Nei Genesi dice Dio creò l'uomo, maschi e femmine. Ma l'uomo chi è? Maschio e femmina insieme. Non è l'uomo maschio, è l'uomo. L'uomo è maschio e femmina insieme. Quella forma l'unità. Ecco che allora l'essere sottomessi è amarsi, abbracciarsi, stringersi, fare carne unica, fare comunione unica, e fare sempre sotto missione a Dio perché questo mistero della famiglia lo capiamo solo se guardiamo a Dio. E nel Vangelo ci viene messo in evidenza come di fronte al mistero dell'amore massimo che è l'Eucaristia, quando Gesù dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue e dona a noi il suo corpo e il suo sangue e lo riceviamo nella comunione. Dio vuole vivere con noi. Non viene a vedere se sei una peccatrice o un peccatore. Vuole vivere con noi per aiutarci a liberarci dal peccato e dalle sue conseguenze. Dio che annuncia se non mangiarete il mio corpo, quasi quasi lo comanda, no? Se non mangiarete il mio corpo e non berete il mio sangue non avrete la vita con me. E gli altri si scandalizzano. Ma non so quanti di noi capiamo, o se nessuno di noi capisce questi misteri, perché sono misteri di Dio. E Dio li svela con i fatti, con l'esperienza. Ecco allora l'Eucaristia non è fatta tanto per fare. È proprio un prendere, cibarci, dice Gesù Cristo, con il suo corpo e con il suo sangue, proprio nella pienetta. Lui diventa carna e nostra, unica carna, unico corpo, per aiutarci, per darci forte. E l'uomo questo non lo capisce, quelle robe lì. I fatti tutti vanno alla comunione e si alzano tutti. Si è abituati a fare tutto quello che fanno gli altri, no? Ci si alza, avanti, peccato grave o no, non importa, comunione. Torna il posto e come che avessero mangiato un gelato, neanche, perché il gelato è manco buono, la particola non è neanche saporita. Vi capite come siamo lontani dal gustare la comunione, gustare la necessità di ricevere Gesù Cristo, perché è Gesù Cristo che porta l'armonia in noi, che ci dà la comunione vicendevole, famiglia, fuori famiglia, la comunione, amare, amare, amare. E amare, ripeto, non è aspettare, è donare, donare, sempre, ma non la finisce più, amela ancora, amela ancora, si perseverante dell'amore, come Gesù Cristo, che muore in croce. Ecco perché la croce è il massimo dell'amore. Non è soffrire la croce, soffriamo per la paura, soffriamo per le ansie, soffriamo perché non crediamo che Dio ci aiuta. E allora ci troviamo soli, soffriamo, ma se che venga qualcosa, subito tremiamo. E c'è il Signore, dice, abbi fede, credi. San Pietro dice, no, Signore, da chi andremo? Tu hai parla di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Parola ispirata. Ma questi ci consolano. Che noi diciamo, Signore, da chi andremo? Io sto con Te, scegno Te, accetto il Tuo amore e accetto che Tu mi ami come sono e accetto che Tu mi dia il Tuo amore, il Tuo spirito, perché io amo gli altri come sono, come Lui ci ha amato. Amatevi come io vi ho amato. Stupendo, una lettura bellissima, questo Vangelo è stupendo, radicale però, non si può giocarellare, non si può stare in chiesa e dopo fuori fare i cavoli propri. L'amore esce anche di chiesa. In chiesa, fuori, l'amore viene con noi sempre e non ci dà mai ragione, mai. Ci diventa sempre, vai di sopra, ama, 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 vai di sopra, non fermarti giù a ragionare, che non serve a niente. ma allora ha sempre ragione Lui, la ragione dei mossi, lascia che ce l'abbia, non guadagna niente. Invece Tu, ama, questo sì, di la verità, questo sì, di la vera, non la mezza strana, la verità. Ecco che allora, è un Vangelo che ci mette un po' il muro, con chi siamo? Rispondete, ognuno di voi, risponda a se stesso. Scegli chi? Dio? O il diavolo? O il mondo? Guardate che il mondo influenza a noi, influenza tantissimo. E il mondo ci porta sempre lontani da Dio. Quando invece, è lo Spirito che vivifica, è lo Spirito che dà la vita, è lo Spirito che entra in noi per darci la nuova vita, e anche darci la possibilità di credere in Gesù Cristo. Perciò gioiamo di questo. Anche i gesti che facciamo, dopo faremo il segno della pace, che qui lo facciamo un po' abbastanza, abbastanza bene, ma diamoci un bel segno di pace, sereno, tranquillo, proprio in comunione. È la pace di Gesù Cristo che passa, non è la mia. E questa pace deve portare pace, sia nel dare come nel ricevere, è la pace. È quell'amore di Gesù che è dentro, che doni all'altro. Non importa se lo conosci o no, è una creatura di Dio. E qualsiasi creatura, dopo abbi, anche in questo discorso entra l'amore agli animali, ai fiori, alla natura, al creato. Certo, perché l'amore arriva a tutti, a tutte le creature. Ma non schiavizzamole. Siamo in un esempio di amore sbagliato, proprio ai nostri tempi, quando amiamo le creature umane, le pistoline, i cani, i gatti, in una forma sbagliata. Gli schiavizziamo, poveracce, non sono più cani negati. Sono legati, devono fare quello che vuole la padrona o il padrone. guai se si muovono. E prima viene loro, dopo noi. E ci schiavizzano la vita, perché non si può lasciare lì da soli. Poverini. E quei poverini sentiamo tutto. Invece diventiamo maturi noi. Ricitiamo l'amore di Gesù Cristo, che ci porta a amare noi prima, la nostra famiglia prima, e anche se siamo da soli, amarci. Nella solitudine, la solitudine è la cosa più grande che esista nel mondo. Essere soli con Dio, in comunione con Dio, e in comunione con tutto il creato. E la bellezza. Ecco che allora l'amore arriva. Arriva anche agli altri. Lo doniamo a tutti, non facciamo differenze. Sì, è possibile qualche, diciamo, amore più speciale verso i parenti, quello che può essere i doveri anche familiari. Ma l'amore deve arrivare a tutti. Non guardare se ne approfitto ad odime. Devo donare amore. Dico devo perché, se vuoi la vita, è l'amare, amare. Che non è solo l'amore umano. Non è amore la depravazione, la sessualità, quello che c'è adesso, questa porcheria che esiste nel mondo, adesso riguarda il corpo umano. l'amore è eleganza, è armonia, è bellezza, è vita, è energia che ci traspettiamo nel rispetto grande. Allora l'abbraccio di pace ha senso. Non mi importa che ho di fronte, è Dio che passa attraverso di me e attraverso l'altro che arriva a me. scoprire questo e poi viverle. Ma viverle anche a casa, l'abbraccio di pace, dovreste farlo a casa sempre, nel mattino, alla sera, pregate, fate un altro importante, finire sempre con l'abbraccio di pace. O ci vergogniamo di darci l'abbraccio di pace, ma che succede anche questo? O con le bozzette con l'era. Quando hai amore, diventa vita. Ecco, Gesù è qui per dirci l'amore esiste, la vita esiste. Io che sono l'amore voglio nell'Eucaristia entrare in te per portare in te il mio amore. Il mio amore divino che con l'amore umano che hai, che è sempre amore di creatura di Dio, fatta immagine di somiglianza di Dio, tu gusti la tua interezza, la tua pienezza, amore divino e amore umano insieme. Non è tecnica, non è psicologia, non è una medicina. L'amore è la vita di Dio che viene donata a noi e insieme a quella vita che Dio ha dato a ciascuno di noi, ecco che crea la creatura in pienezza. Ecco, gioiamo di questo e crediamo anche che le tue parole del Signore sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Ascoltiamo il Vangelo, ascoltiamo la parola di Dio. Perché adesso siamo in tempi che si butta via Gesù Cristo, il Vangelo, perché ognuno fa liberamente quello che vuole e così diventiamo selvatici. Così facciamo il male che sta avvenendo nel mondo. Ma tante volte ci crediamo anche noi, poverino, sai, poverino, e quel poverino roviniamo la persona. L'amore di Dio invece è verità, nella verità. Dio ci ama nella nostra verità, peccatori, e ci perdona, e ci ama sempre, e ci aiuta a rialzarci. E vuole che anche noi facciamo lo stesso. Peccatori chiamano gli altri peccatori. Li amano come sono. E non aspettano il gratte, non aspettano l'iconoscenza. Amare sempre, amare sempre. Mi piace tanto quell'esempio della di navighita di montagna che diceva Dio alle tonte, ma anche agli uomini che siano come le fontane di montagna. Buttano sempre, sempre, anche a vuoto. Sempre quel tubo grosso, anche pieno di acqua. E va. La vita nostra dovrebbe essere così. Mi è piaciuto un esempio di oggi proprio che una coppia che prima dell'eucaristia andava in un bar a prendersi un caffè. E tra di loro, dato che vanno, sono molto appalgamati, e si sorridivano, parlavano, così, con desideri voltura, senza nessuna pausa. Ed era un bar di giovani. Stasera loro sono andati in lo stesso bar. E il barista quando sono andati a pagare, no, dice, ha detto che il tale paga lui. Ah, dice, noi non corsiamo nessuno qua. E ci paga bene, ma, insomma, vogliamo, e si dice quello che il padrone va da quello che doveva pagare e dice, questi, come li chiedi? Questi li devi dare il caffè gratis anche l'acqua. Perché il sorriso che hanno, che a me piace molto. Ogni volta che li vedo vedere qua, perché erano usuali andare in quel bar, io sono sempre felice perché mi sorridono e vedo che tra di loro sorridono. L'esempio di un sorriso cosa fa? Non solo per pagare il caffè, ma ha colpito quella persona. Ha detto quella è una persona buona. Ha detto che, non mi ricordo più la frase, è bella, voi siete persone dal cuore mi ha detto un aggettivo stupendo. Cioè, come l'esempio, senza anche volerlo, però incide nelle persone. Perché tutti guardano se c'è amore e dove c'è amore tutti. Ecco che allora anche l'abbraccio di pace si è fatto con gioia, con armonia, per donare ciascuno vicendevolmente Gesù Cristo. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio e buonanotte a tutti.